Ogni sabato dal 13 aprile al 18 maggio nel Parco Virgiliano si terranno corsi di difesa personale per le donne promossi dalla Ollus Il Cammino nel Sole. L'iniziativa, a partecipazione gratuita, vuole offrire attraverso l'arte marziale del Winson, tecniche e mezzi per reagire ad un'eventuale aggressione con attenzione anche all'aspetto psicologico e di gestione delle emozioni. Andremo ad agire non solo sul piano tecnico stretto ma anche sulla gestione, il riconoscimento e l'autoconsapevolezza delle emozioni attraverso un lavoro legato al movimento. È rivolto a tutte le donne che non necessariamente siano state vittime di abusi e maltrattamenti ma anche a quelle donne che sentono la necessità di difendersi. Questo sistema di autodifesa è stato ideato da una donna per le donne e per le persone più deboli, quindi lavoreremo principalmente sull'aspetto psicologico, tecniche semplici che possono realmente aiutare in caso di un'aggressione realistica. Lo facciamo nel Parco Virgiliano, questa è una delle prime azioni che stiamo mettendo in campo anche per la rivautazione dei nostri parchi, che possono essere anche utilizzati per iniziative come questa. Un'iniziativa importante, un corso di autodifesa sulle donne fa sempre bene alla città, promosso da alcune associazioni, tra cui anche associazioni teatrali, che sono partner di questa iniziativa ed è un modo importante per far vivere i nostri parchi.